ciao a tutti eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film che appena uscito nelle sale cine comics marvel black panther che inaugura i festeggiamenti dei marvel studios ovvero dieci anni di cine comics da ormai dal 2008 che iniziò tutto con con iron man e ovviamente ne parlo con pierpaolo bonelli ciao pierpaolo ciao giulio buona giornata black panther arriva sugli schermi è uno dei primi supereroi neri non il primo vado un po a memoria e arriva come uno spin off perché black panther l'avevamo conosciuto nel in un capitano america nel civil war e qui invece il marvel ha deciso di costruire tutto un film attorno a questo personaggio e anche contornandolo di un buon cast perché abbiamo forestry taker angela bassett andy serkis quindi insomma ci sono dei bei ma ma giustamente ecco martin freeman c'è già e quindi abbiamo insomma un bel cast e com'è questo film invece allora a dispetto del del casco è molto buono il film personalmente non mi ha convinto ci stava a fare uno spin off per raccontare le origini di pantera nera per raccontare soprattutto il mondo cioè la nazione di pantera nera ovvero il wakanda che va appunto già visto in civil war e ancora prima in avengers age of altron già c'erano delle scene in wakanda perché perché in wakanda si produce il vibranio che è un materiale leggerissimo ma resistente da cui è lo stesso materiale con questo è stato fatto lo scudo di capitan america per per intenderci quindi conosciamo questo questo mondo che è un mondo altamente tecnologico nonostante in superficie proprio in superficie nel vero senso del della parola risulti un paese poverissimo e fondamentalmente che vive di agricoltura e poco più invece nelle nelle profondità perché il wakanda è nascosto grazie alla tecnologia in una in una foresta scopriamo quest'altro mondo il film è un film appunto sia di origini che di eredità nel senso che il capitano in capitano america civil war avevamo assistito alla morte del padre di challa challa è appunto il protagonista interpretato da chadwick boseman e challa riceve in eredità il la corona appunto del del wakanda perché in wakanda c'era una una monarchia e quindi c'è tutto il peso la responsabilità di diventare re oltre a questo c'è un ovviamente c'è una rivalità nel senso che il trono viene reclamato un po come game of thrones da un'altra persona che non svelo per fare spoiler la quale ha un legame diretto e parentale con lo stesso challa e quindi c'è questa lotta per per il potere per il trono che risale in realtà da un fatto drammatico uscito scusate avvenuto negli anni 90 quando challa e quest'altra persona sempre perché non voglio far spoiler erano giovani e hanno assistito a un omicidio quindi il film diciamo che riprende un fatto del del passato per raccontare il presente sulla carta ero e l'avevo messo anche tra i film più interessanti di questo febbraio però visto il risultato l'ho trovato una una delusione più che altro perché ho avuto sempre la sensazione di assistere a un film che ha il freno a mano tirato per capirci nel senso che è un film che non osa però che nel raccontare questa storia di regalità di del wakanda e di fondamentalmente in un certo senso di di politica non non va oltre le parole che dice c'è tutto un discorso razziale e culturale sul ruolo del wakanda che deve avere nel mondo se occuparsi del essere paladino del black power però sono tutte cose accennate e quindi il film risulta a parte molto didascalico molto lineare nonostante faccia qualche viaggio nel viaggio nel tempo qualche flashback e poi l'ho trovato un film molto lungo molto lungo perché su due ore e venti e in queste due ore e venti c'è una netta mancanza di ritmo per cui non riesci a farti intraprendere a farti coinvolgere dalla storia anche se di per sé la storia secondo me è interessante e poi aggiungo una critica che secondo me è ancora più grave a prescindere dalla storia perché i cinecomics sono entertainment così piacevole semplice non bisogno né che cinema d'autore però nel suo essere entertainment ha comunque un ruolo importante nel cinema mainstream ecco una cosa una pecca che ho trovato è l'aspetto visivo ho trovato il film visivamente sia come regia che come effetti speciali molto molto approssimativo cioè ci sono diverse scene in cui vedi dei limiti della computer grafica che in un film dei marvel marvel studios sinceramente non non ti aspetti perché comunque da quel punto di vista bisogna solo elogiarli perché sanno fare un bello ecco qua questa cura questa attenzione per il particolare per l'effetto per l'effetto spettacolare secondo me è venuto o meno e si si vedono tutti 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 i limiti adesso una una notazione nerd ma aggiunge qualcosa alla continuity del mondo marvel o è solamente una digressione temporale e un modo per poter realizzare un film all black il mercato americano li richiede qua è un film veramente all black dagli interpreti al regista quindi e c'è c'è solamente questa necessità oppure c'è qualcosa di nuovo allora per quanto riguarda la tua domanda nerd che comunque è importante bisogna dire senza fare sempre spoiler è un film stand alone un film a sé stante un film che non non si collega più di tanto al filone del marvel cinematic universe e riprende giustamente un punto di vista narrativo un paio di riferimenti ovviamente a civil war ma è un film a sé stante che racconta appunto il wakanda racconta il suo mondo non c'è alcun riferimento a tanos alle gemme dell'infinito cosa posso dire altro dico solo che ci sono due scene post credit una propria all'inizio e una alla fine la prima senza andare nei dettagli la reputo una scena post credit abbastanza telefonata prevedibile la seconda è curiosa perché è proiettata come fanno le scene post credit per il futuro il futuro è avengers infinity war dove da quello che vediamo nei trailer nelle clip il wakanda avrà un ruolo fondamentale e probabilmente sarà proprio l'esercito che sfiderà tanos però ritornando a black panther il film è a sé stante si capisco l'esigenza degli stati uniti dell'america in generale di raccontare film del genere proprio per quello la critica che ho fatto prima è ancora più secondo me importante nel senso che se viene richiesto era giusto anche osare qualcosa di più dare delle riflessioni un pochettino più approfondite anche se siamo all'interno di del massimo del dell'entertainment così uso in maniera semplice non particolarmente approfondita però secondo me quel discorso aveva doveva avere maggior maggior approfondimento ultima roba devo dire anche che il cast molto folto secondo me è più interessante nei nei comprimari piuttosto che nei nei protagonisti a partire da chat week bosman che mi era piaciuto tantissimo in civil war l'avevo trovato una bellissima sorpresa e qua invece tutto il peso del dell'essere re non riesce a sopportarlo non è carismatico e viene spesso schiacciato da attori comprimari sia maschili che femminili come martin frima andy circus lupita nyongo che un bel proprio un bel personaggio che fa l'amata nakia quindi insomma anche da quel punto di vista l'ho trovato una una delusione forse uno dei più brutti film di questi dieci anni di cine comics ma tanto tra due mesi c'è ci sarà avengers infinity war quindi probabilmente uno di quei film che si dimentica abbastanza velocemente sentito la black panther pantera nera la regia di ryan coogler al cinema cinetevilandia abbiamo lasciato un po tiepidino questo film però insomma e noi lo abbiamo segnalato ugualmente giusto ti ti ringrazio pierpaolo al prossimo appuntamento ciao a tutti